Buongiorno, da oggi cominciamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Matteo a partire dal capitolo 5, versetti dall'1 al 12a e l'inizio del discorso della montagna, splendida nuova legge che Gesù consegna ai suoi discepoli a rinnovare l'alleanza dell'Antico Testamento con la rivoluzione che viene dalla sua presenza in mezzo a noi su questa terra come figlio incarnato e l'inizio del discorso è quello delle beatitudini, beati i poveri in spirito, inizia così Matteo, sono otto poi le proclamazioni di felicità che riguardano categorie di persone generalmente considerate fuori dalla possibilità di essere felici, la logica di Dio contrasta con la logica del mondo ma in una cosa si ritrova in piena sintonia, Dio sa molto bene che ogni uomo e ogni donna che viene sulla terra vuole essere felice e Dio ha interesse a mostrarci attraverso Gesù la strada della vera felicità. Sono beati quindi coloro che rientrano in queste categorie di persone e lo sono perché Dio ha scelto di stare dalla loro parte, essi infatti i poveri in spirito ricevono il regno dei cieli, è un dono non una conquista, coloro che piangono sono consolati e ne sono destinatari di questa consolazione non proprietari, i miti ereditano la terra che è proprietà di Dio e viene loro consegnata in eredità, gli affamati di giustizia saranno saziati e sempre il cibo e quello che beviamo viene da fuori di noi come qualcosa di ricevuto per grazia e non per merito. I misericordiosi troveranno misericordia è un movimento che viene dalle viscere amorevoli di Dio, la misericordia viene trovata come perla preziosa nel campo, nel campo della vita. I puli di cuore vedranno Dio e lo vedranno non perché scaleranno montagne verso il paradiso ma perché Dio si potrà manifestare con tutta la sua potenza in quei cuori che non hanno nulla da nascondere, trasparenti, veri, puri appunto. Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, anche i popoli diventeranno alleati di Dio nel donare agli operatori di pace ciò che si spetta a loro e che riconoscere di essere parte della famiglia di colui che è la pace e che genera la pace. I perseguitati per la giustizia sono proprietari dal regno dei cieli assieme ai poveri in spirito e allora la giustizia rientra tra i attributi di Dio. Non è la giustizia del doot des ti do e ricevo in cambio ma è la giustizia di colui che è giusto e riconosce la dignità di ogni altro che è vicino a lui, ogni persona, ogni creatura, soprattutto la dignità di Dio. Giustizia è mettere le cose al proprio ordine, al proprio posto. Beati tutti coloro che perseguitati, insultati e attaccati con malevolenza per causa di Dio riceveranno la ricompensa dei cieli. Ecco, è una ricompensa che in realtà è un anticipo, è una prevenire, è una promessa che si compie. La beatitudine non è frutto dei nostri sforzi ma è dono di grazia che viene dall'alto. Tutte queste categorie di persone si sforzano semplicemente di liberare il cuore, neviscere la nostra persona stessa da ogni impedimento che non permetta di riconoscere il dono che viene da Dio. Anche noi allora ascoltiamo il nostro desiderio di essere felici e cerchiamo di percorrere la via giusta. Tutto quello che è contrario non ci porterà mai alla beatitudine. Buona giornata.